Io ho già concordato, sto facendo le ultime verifiche delle compatibilità, abbiamo già scelto la persona che verrà alla guida del porto, penso di aver trovato la persona giusta, stiamo scegliendo i presidenti sulla base esclusivamente di caratteri manageriali, non abbiamo influenze di nessun altro tipo. Io avrei voluto nominare degli amici, anche che sono politici, competentissimi, bravissimi, ma abbiamo scelto di tenere fuori la politica, a volte questo può essere anche doloroso, però vogliamo puntare su manager, su persone che non hanno avuto contatti con, non tanto perché non ci siano politici capaci di fare i manager, ma perché abbiamo voluto trasformare sempre di più i porti come aziende al servizio dei territori, ma anche molto meno legate e condizionate da interessi del porto, come erano i vecchi comitati portuali, quindi snellito, abbiamo fatto una riforma che snellisce, che mette la logistica al centro.